Ehi, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Paperinic08 e oggi ragazzi siamo tornati su un video di Fall Guys e oggi con noi ragazzi c'è pure il Dema07 Salve, buongiorno a tutti Però stasvolta non farà il commentatore ma giocherà anche lui insieme a noi Yeee Perché a Fall Guys? Bene, avevamo detto nello scorso video che se quel video arrivava a 10 like io compravo il DLC Ora, quel video mi sembra, ora sto andando a controllare, teoricamente mi sembra che non era arrivato a 10 like, giusto? No, siamo a 5 like, mancano altri 5 like e poi comprerò il DLC, questo qui dell'hamburger e delle patatine fette E invece se questo qui arriva a 20, no scherzo, a 15 like, sarà il Dema a dover comprare quel DLC No! Eh sì sì, si arriva a 15 like ragazzi, ragazzi, ragazzi Bene, quindi mettiamo subito pronto che voglio subito cominciare a giocare Fall Guys Quindi metti pronto, bravo, una vita e mezzo, ti c'è voluto per mettere pronto Eh lo so, lo so Eh lo so, lo so Comunque O arriverò tipo fra i primi O se devo morirò subito Ultimo, ultimo Ultimo Che battuta era, non ho capito Comunque Questa è la mappa delle porte Ok E questa è la mappa delle porte E ah comunque A proposito Scrivetemi anche nei commenti di questo video Però scriveteli i commenti Scrivetemi nei commenti di questo video Se volete Che si fa un altro video su Grounded Su Grounded dicevo Non riesco più a parlare io Scrivetelo e Se volete altri video insomma noi li porteremo Dove sei? Ok ti vedo Guarda davanti a me No, sei quel lupo qua Aspetta ok Ti sono dietro di sei Ok Ti vedo la fraccetta Che schifo Questa è una porta giusta Se ti sei girato non era una porta giusta Bravo Eh lo so Ho visto lo dog Si è schiantato però non l'aperta Perché si è schiantato male Invece È un po' strano da dire però Mamma mia Mamma mia Guarda il sembramento raga Oh 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 Le mascherine Oh Almeno Almeno Nono Io sono ultimo Ma io ti vedo Eh mi dispiace Io mi sono più buttato da Io Ce la facciamo Io ce la faccio Io ce la faccio Io vuoi dare un abbraccio Prima Si Per poco io non venivo qualificata Tanto per dirti Vediamo quelli eliminati di oggi Tu chi sei il fall guy numero 100 No Cosa 100 1729 1729 Non ti vedo Bella cosa Ok ti ho visto ti ho visto E' in cima Questa è il 2706 No io sono il 2012 Non lo posso dire Non lo posso dire Ok Vai vai Allora ragazzi Oggi usciranno due video Uno di questo video di Fall Guys E stamani Uno Di pomeriggio alle 2 Su La storia di FNAF Che E' una serie che avevamo cominciato Ci stiamo portando molto avanti E E poi ci stiamo anche Cercando di organizzare Per cominciare Visto che ora molti sono in vacanza Ci stiamo organizzando Eh Ma io non so parlare Stiamo cercando di organizzarci Per Per il quartiere Di Roblox 2 La stagione 2 Che dovrà uscire a breve Perché come sapete E' finita la 1 Uscirà la 2 Comunque a parte questi Spoiler Spoiler del mondo Ora io Io sono primo Raga Sono primo Com'è possibile Eh Io questa mappa Non l'ho mai superata Manco io Te lo dico Perché non l'ho mai vista Questa mappa Eh Io sono morto Ah Puoi tornare no? Eh No Come no? No Però ti guardo Ok Mi vedi? Aiuto Sono un ananas piccione Un piccione Un ananas Ora sa ma Sei Fogai? Ah Eccoti 2012 Io sono Eh Attento Attento Però Te sei Fra i primi Sì Ok Quello Ti stava per No Io li odio Sti rulli Io li odio Sti rulli Ok Oh Ce la stai facendo Com'è possibile? Adesso Ti prendo Un martello Il voglio Dai ma perché Devo sempre morire? Che schifo No tua sorella Corri corri Tuo madre No Corri Muoviti 9 Solo 9 Vengono qualificati Non sono 9 2 su 9 Sì Tu Tu mi racconti un sacco di Aiuto Ok Vai vai Tuo madre Ok 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 Calmi 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 Sì ce la faccio ce la faccio A meno che non cada Tua madre Tua madre Tua madre Tua madre Ok Cosa sto No Nuo Corella Quello Ciao Bella Aiuto Vabbè adesso si esce Tutte e due No dai però Dai Dai Ah Sì 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 Tutte e due Eravamo Morte fatti Ma Ma a parte perché C'erano così tanti Eliminati Non lo so Nutella Allora di nuovo ti preparo Allora ti preparo Un riso con Non lo posso dire Per ora mi sto trattenendo Dallo sclero Io Io per ora Già quando sono morto Volevo dire Un po' di cose Ai creatori Di questo gioco Magari quando vuoi dirle Tipo ti muti Comunque raga Se non sentite il tema Perché io sto giocando Da joycon Quindi se non lo sentite Vuol dire che O sono un cretino io Che continuo a giocare Da joycon Perché Mi trovo meglio Non joycon Però vi dico La prossima volta Se non si sente il tema In questo video La prossima volta Gioco da mouse e tastiera Anche se Ma io sono da mouse e tastiera Mi ci trovo un sacco No io mi trovo meglio da joycon Perché mi guardi cane Che ti ho fatto No Cioè il mio cane Mi guarda storto Ok Magari tu sei storto Grazie Questa qui è una Mamma mia Fra Se io sono uno 09 Tu secondo me Sei proprio uno 09 Ciao Io sono l'ultimo Ok ti ho visto Questi lugli Allora Io non ci faccio la fortuna Sì però Si mi spingono Subito al primo Tua madre Quella ciambella Ok No Come dice Giulio Uno dei nostri collaboratori No Come dice Giulio Dice no No Non così Non così Vai 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 Ok io ce la faccio eh Io questa modalità ce la faccio quasi sempre Poi qua dove ci sono le palle roteanti Non ho problemi Tua sorella Quella balena Oh mio dio Oh mio dio no 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 Ah Ma quanti ce ne sono davanti Te sei forse primo Sì però se mi vado davanti Vai vai corri corri Ok Io mi sono messo a fare tutti Calmo Calmati eh Ma che scherzo Beh un attimo che mi muto eh No Stanno succedendo le peggio cose Stanno succedendo le peggio cose ragazzi Ok Va bene Va bene signori Va bene Signori di tu No Signori di youtube Che Che palle roteanti No Ah ah ok no Vabbè si può lasciare Dai si può lasciare Oh le palle nel gioco Eh infatti Eh esatto Vedi guarda quante palle ci sono Nelle mappe Qui è la si sou Sou Ma non è sou l'enigmista No 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 Ok Ma non è che tutto questo in realtà è Sou l'enigmista E' un piano malefico per farti dire parolacce Io ti devo trovare Ok ho trovato 2017 Io ti ho trovato 2020 una volta Eccoti 2012 che ho voluto Ah mia che assomiglio Ancora Ancora Non si dice con queste cose No sono raggiunta Cerco di essere il più femminile possibile Perché se no a quest'ora Non avrei fatto un video Addio Alleluia Alleluia Ti consiglio di andare in quello destro No in quello blu No si in quello destro Ah non lo posso dire Non lo posso dire Guarda la coppia si è avanti Io sto rosicando male Ma per cosa scusa Cioè sto sclerando scusa volevo dire E' un po' strano se rosicali Cos'è rosicali? Cioè è una cosa strana Ah no 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 Sei un Ah 3 su 3 5 Guarda la che c'è pure un sacco di persone 9 Quel gruppetto la deve tutti morire In un modo Oh padre Ah 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 Vabbè tanto Credo ce la faccio io Non ce la faccio il mio rato Non ce la faccio Non ce la faccio Ah Non lo posso dire In quanto commentavo era così bello A parte che la ce ne sono quattro di Giacobbi Eh vabbè Addio per noi Io esco subito Esci esci Ah Eppure è caduto il mondo È caduto Mamma mia Ma tu che li dico Poi Un punto di domanda Un attimo Mi sono caduti tutti gli animatronics Che ho davanti Che mi uccidono la notte In che senso? In che senso? Nel senso che c'ho dei pupazzetti Degli animatronics Che magari un giorno Quando farò il tour della stanza Farò vedere Mamma mia Ciao Ciao Golden Freddy Lefty Ma Che cosa ho sentito? Tipo Una persona che cercava di fare la cacca Ma cosa? Vabbè Io mi guardo i tiktok Mentre caricano le mappe Cosa fare mentre carica Fall Guys? Eh io non lo so Io direi Fare i compiti Passare un'intera giornata a scuola Poi giocare ad altri giochi Leggere un libro Andare fino al Duomo Andare fino al Duomo Leggere un libro Non da casa mia Non da casa mia Da casa tua No no Anche da casa tua Da casa mia Non è che ci fa qualcosa Ma ora tipo tutti mi vengono a casa Adesso c'è C'è tipo lo stalker Io attraverso la strada c'è il duro Non scherzo Non fai i brutti incubi Perché so che sei un bambino Che schifosi Che schifosi Cioè io ero primo Mi hanno scherzo Su a vostre sorelle No ma stai Ma io no Ah non lo posso dire Oh vai Io ce la faccio Io ce la faccio Esci 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 No dai Ti prendi Esci che stiamo a vedere Te Non ci tengo Io Esci Sei uscito Ah si Che Che cacca sotto Vabbè Che livello sei quindi Io mi cambio skin Basta Dimmi che livello sei O morirai Ah Non lo posso dire E perché non lo puoi dire Perché Eh boh Bella domanda Bella domanda Iaia Fra E Guarda Guarda cosa sono diventato Aspetta un attimo Sto guardando un po' Cosa vendono Io volevo prendere L'altro DLC Vabbè Se il video Se il video Siamo 15 like Ah se questo video Arriva a 15 like Bellissimo questo robot Se questo video Arriva a 25 Eh a 25 Sì ciao 15 like Io mi compro il DLC Non questo qui del cibo Ma quello lì Dell'astronauta E invece Il nostro amico Fallguy 1729 Si compra quello lì Dei panini No io non voglio Quello brutto Eh non me ne importa Ma scusa Sono i miei soldi Io posso decidere Quello che vuoi Eh ma se Arrivano i like Cioè In realtà sono quelli Come se arrivano i ladri Non diri Che sei un hacker Bene io direi di fare L'ultime due Eh va buone E poi tutti dicono Fall Guys È un battle royal Ma dove la vedi La battaglia Su Fall Guys Cioè no Tanto Ma perché Fa fino all'ultimo giocatore Per questo Ah è vero Ah Vero Vero Comunque Ditemi se A settembre Dovrebbe uscire Sia Piggy 2 Che quella Lo volevo portare Di gioco Sia Piggy 2 Sia dovrebbe uscire Pure FNAF Security Breach Una roba del genere Insomma un nuovo Five Nights at Freddy's Scrivetemi nei commenti Se volete che lo porti Sì però se vado Da sbattere subito Eh ti ho visto Scrivetemi dicevo Se volete che io porti FNAF Security Breach Perché Secondo me È È pure Portarlo Quindi È pure È pure Quindi secondo me Io lo porterei Tua sorella Quella cannella Ma come Ti ho superato Sì No Ti ho superato Adesso ti prendo Adesso ti prendo Non mi interessa di vincere Lo voglio solo far perdere Vai 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 Eh niente ce la faccio io Sì ok ce l'ho fatta Anch'io anch'io Ok Appena Boone 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 Dicevo Dividetemi se volete che io porta FNAF Security Breach O E P2 Perché secondo me Sono dei bei giochi da portare Comunque Andiamo avanti Ah mamma mia Andiamo avanti Mamma mia Boone Boone Ma no Sì sì È buono Non è buono È buono È buono Ho tirato una gambata Alla scrivania Incredibile Comunque Prossimo mappa Prossima partita Prossima giocataggine E provo Ok Qui cosa bisogna fare Aiuto Ah qua Bisogna Ah già Che è un infetto Ok Bisogna Perché Perché Mi parli sopra Schifoso Ok Perché Non hai il diritto Di parlare Va bene Il bambino Rissoluto No Scappa subito C'è l'infetto Corri Scappa 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 C'è l'infetto No No c'è l'infetto Oh Ok Ok Io ho appena deciso Di far venire Il mal di testa A tutti quelli Che Soffrono di mal di testa Tua sorella Ora io faccio Mi faccio infettare Tutti Sono infetto Franchino Ho un po' di mal di testa A tutti Stiamo vincendo Sto facendo venire Un po' di mal di testa Al mondo Ok Mi è venuto pure a me il mal di testa Aiuto Chi è che manca È un hacker Dov'è L'altra volta ho visto un hacker Però siamo mattati Questo è il bello Siamo qualificati tutti e due Lo so Lo so Lo so Ci siamo qualificati entrambi Passiamo al prossimo round Che dobbiamo andare avanti E diventare pro Fare i livelli E essere molto forti e bravi Te sei morto? No no Loro sono morti Perché era un pareggio quello Ah ok Ah va bene va bene Quindi sono rimasti tutti blu praticamente Quindi anche te sei rimasto Bene bene Buona buona Allora Ah qui è semplice Basta saltare Qui è semplice Basta saltare E cercare di non cadere Cosa che ci Non è semplice Non è semplice Fidati di me che è semplice Fidati di me che L'ho già fatta molto Ora moriamo Sifo Adesso muori tu Sai quanto ci vuole Io non ti vedo fra Ok ti vedo ti vedo ti vedo Sei un piccione viaggiato Ok Ah ecco Ciao Comi regge Adesso valendo Volendo gli possiamo Possiamo far così tutto il tempo È vero sì Quando valendo Ma volendo l'incontrario Sono proprio scemi Non ho capito quello che hai detto Ma sono d'accordo con te C'è gente che va all'incontrario Per andare proprio contro Pure io Ah no 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 Aiuto E vabbè siamo morti Ultime parole fabose di Paperinic Comunque E quindi bene Torniamo alla lobby E quindi ragazzi di Drake Per questo video Ci possiamo anche salutare qui Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E da Paperinic08 E dal Dema07 Cioè Fall Guys 1729 Tutto Ciao ciao In linea dello studio